buongiorno a tutti intanto vi auguro buon anno questo è il primo incontro online purtroppo in questo momento ma diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù perché questi incontri online hanno avuto grandissimo successo quindi è il primo webinar dell'anno ma il quarto che facciamo insieme ai partner di kpmg siamo noi sic industria e confindustria sardegna con silvia testoni oggi partner di enterprise europe network insieme ai nostri stakeholder chiave di kpmg italia aurora marlok e massimo fabio con cui abbiamo avviato questo bellissimo percorso di webinar tecnici su tutto quello che riguarda l'export del commercio internazionale oggi abbiamo tantissimi partecipanti perché il tema è uno dei temi chiave dell'economia italiana il tema dell'agroalimentare quindi oggi si parlerà di tutta gli aspetti normativi doganali legati all'agroalimentare e appunto ricordo che siamo a metà strada perché i prossimi appuntamenti ve li dico velocemente saranno il 27 gennaio sul tema delle accise nelle delivery nazionale nell'esportazione il 3 febbraio le dinamiche dell'export control quindi con l'opportunità di aderire programmi interni di conformità e cosiddetti pic per una gestione sicura di prodotti o semi lavorati che hanno una rilevanza dual use costantemente interessantissimo il 10 febbraio tutto brexit minuto per minuto ormai massimo e aurora vi racconteranno tutte le aggiornamenti e tutte le novità ma abbiamo una chicca in più perché il 24 febbraio concluderemo in bellezza con un webinar tecnico tutto dedicato agli stati uniti sarà dedicata alla nuova politica statunitense i mercati esteri quindi le opportunità dell'export per il media di italy con interventi di cosiddetta customs engineering quindi non perdetevi questi appuntamenti anche perché poi tra l'altro questo ultimo incontro con il kpmg sui webinar da tutto export si collegherà a una nuova serie di webinar che faremo con altri partner esterni che sono export us e quindi ci sarà una serie di webinar tutto dedicato agli stati uniti c'è una staffetta con kpmg che comunque resta sempre al nostro al nostro fianco al fianco di voi imprese con il custom test permanente quindi tutte voi imprese che avesse delle tematiche specifiche delle problematiche da voler discutere individualmente con kpmg con i nostri esperti potrete richiedere questi incontri al custom test e organizzeremo un appuntamento a questo punto io do velocemente la parola a silvia testoni di confindustria sardegna e poi cominciamo con il web e come al solito sarà appassionante di grazie gianna io saluto tutti a nome di confindustria sardegna ci teniamo particolarmente a questo webinar perché sappiamo quanto sia fondamentale il settore per l'italia e per le nostre due regioni dove abbiamo prodotti di nicchia molto ricercati anche al di fuori dei nostri territori quindi ascolto e ascoltiamo con con piacere il focus sui principali aspetti normativi per per l'export per per l'alimentare e passo la parola ai nostri gentili speaker bene allora io vi ringrazio ringrazio già da ringrazio silvia buongiorno a tutti vado a condividere la presentazione direi che dovrebbe essere visibile adesso mi confermi giada perfetto benissimo allora dicevo buongiorno a tutti oggi affrontiamo come ricordava già da poco fa il tema dell'export di uno dei pilastri della creatività e del made in italy che ci consente di distinguerci sui mercati esteri insieme infatti al settore dell'arredo dell'automotive e del tessile e il settore agroalimentare rappresenta una delle delle nostre risorse più pregiate per la divulgazione e la riconoscibilità del made in italy nei territori di oltremare o di qualunque altro mercato estero abbiamo prodotti che necessitano non soltanto di una cura per poter effettuare le cosiddette formalità di esportazione per ottimizzare la fiscalità di passaggio ma prodotti che per le loro peculiarità richiedono una tutela di natura legale per evitare che si generino delle fatti specie quali la contraffazione nei casi più gravi ma non più non meno grave anche casi di subdolo italian sounding quel fenomeno per il quale produttori esteri copiano o cercano di copiare nostri prodotti richiamando l'italianità sulla proposizione commerciale per indurre il consumatore a ritenere che un certo tipo di prosciutto un formaggio o addirittura un vino o un aceto balsamico sia in realtà di origine italiana questo crea un danno che è quantificabile in decine e decine di milioni di euro ogni anno perché ovviamente distrae l'attenzione del consumatore poco attento su prodotti che si immagina essere italiani e che invece in realtà italiano hanno poco l'effetto è che scegliendo un aceto non italiano o un prosciutto non italiano e magari non trovandolo neanche di buon gusto o di buona qualità ritenga di aver provato un prodotto italiano che non vorrà mai più riprovare avendo invece come dire gustato qualcosa che con l'italia non ha nulla a che fare oggi tratteremo aspetti legati all'export e quindi cureremo sia gli aspetti delle formalità sia la questione della tutela dei nostri marchi gp e di come vedremo il mercato si è mosso devo dire riconoscendo all'unione europea ma anche al nostro paese un'attenzione che in passato non c'era stata partiamo però da alcune considerazioni macro legate al panorama internazionale oggi guardate neanche a farla apposta lo sapete ci sarà il passaggio di consegna tra il presidente trump e il presidente eletto biden in realtà sarà un passaggio più formale che personale perché sappiamo che mister trump almeno anche a ieri sosteneva che non avrebbe partecipato alla cerimonia di oggi in ogni caso è importante richiamare questo aspetto perché come avrete visto come avrete letto sentito sui giornali mai come nel quadriennio dell'amministrazione trump eh si erano visti i dazzi doganali in prima pagina sui giornali generalisti una cosa è trovarlo magari non era neanche così consueto su riviste o giornali finanziari specializzati altro è trovarlo sul Corriere della Sera piuttosto che sul Times piuttosto che sul New York eh su Washington Post questo perché eh ricordiamolo eh l'amministrazione Trump ha avviato già da prima che mister Trump eh si insediasse nel 2016 in nella Casa Bianca aveva già programmato una serie di azioni per tutelare il mercato americano che però hanno generato un inevitabile effetto domino perché ovviamente il primo uno dei primi interventi è stato quello di identificare come competitor per le aziende americane certamente l'Unione Europea ma anche la Cina che certamente è il principale antagonista commerciale degli Stati Uniti l'effetto è stato lo sapete l'avrete vissuto eh sui vostri prodotti una una eh recrudescenza del livello daziario sulla media di moltissimi prodotti di moltissime liquide applicate indipendentemente dai settori che però nel settore agroalimentare ha avuto una concentrazione particolare dall'ottobre duemiladiciannove eh non soltanto eh i dazi come dire protezionistici avevano eh già manifestato i loro effetti su diversi prodotti di origine unionale oltre che ovviamente di origine cinese ma eh c'è stata anche la famosa di atriba tra Airbus e Boeing che ha addirittura legittimato gli Stati Uniti ad aggiungere tazzi compensativi. Lo ricordo per tutti il tema tra Unione Europea e Stati Uniti per la questione Airbus Boeing era legato all'aver eh denunciato gli Stati Uniti già dal duemilaquattro il fatto che il consorzio Airbus comunitario avesse prodotto eh i velivoli e tutto ciò che è a contorno dei velivoli che sui quali tutti noi viaggiamo eh avesse ottenuto dei sussidi di Stato che nelle regole internazionali non non sono ammessi e rispetto ai quali per creare un offset un bilanciamento dei valori il paese di importazione che si ritenga danneggiato da il produttore che ha generato un prodotto con sussidi di Stato può elevare dei razzi protettivi lo prevede l'accordo GATT e quindi è previsto nel consenso del VTO. Dunque gli Stati Uniti a suo tempo avevano fatto questa denuncia e lo vedete nella slide nel diciannove eh il VTO ha dato ragione agli Stati Uniti e dunque ha consentito al governo americano di elevare dazzi questa volta non accesi ad alcuna eh proiezione protezionistica ma semplicemente per rispondere per riequilibrare quei sussidi di Stato che il VTO ha riconosciuto essere stati concessi all'Airbus. Stessa cosa è stata fatta dall'Unione Europea eh che ovviamente ha denunciato pari sussidi nei confronti della Boeing società americana che opera nello stesso settore e dunque l'effetto domino anche in questa disputa legale risolta nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio ha concesso alle due controparti di aggiungere a dazzi protettivi elevati dagli Stati Uniti, dazzi ritorsivi eh proposti poi dall'Unione Europea, dazzi compensativi per rispondere alla vicenda Airbus in eh importazione negli Stati Uniti con anche l'applicazione di dazzi eh compensativi che possono che potevano essere eh elevati dall'Unione Europea in eh considerazione degli sussidi concessi alla Boeing. Dunque si è creato appunto un effetto domino che però ha generato delle criticità soprattutto anche per i nostri prodotti e lo vedete eh per prodotti del settore agroalimentare eh per prodotti unionali in particolare sono stati aggiunti degli extradazzi eh per biscotti, formaggio, vino per i prodotti che esprimono tra gli altri eh la nostra italianità nel mondo. con la Cina si è verificata la stessa cosa per cui in realtà prescindendo da questioni di dispute legali legate alle regole del commercio internazionale il eh la Repubblica Popolare Cinese è stata identificata come lo dicevo il principale antagonista e verso i prodotti made in China è stata fatta tutta una campagna di eh addizioni eh di dazzi di ogni tipo. In realtà questo poteva non eh eh rappresentare un problema per le nostre aziende forse non lo rappresenta in concreto per il settore agroalimentare però vi posso dire che abbiamo dovuto seguire tantissime imprese che avevano delocalizzato parte o tutta la produzione in Cina cercando di recuperare l'italianità applicando le regole di origine non preferenziale. In estrema sintesi abbiamo recuperato il made in Italy su alcuni prodotti che in parte subivano lavorazioni legate per lo più alla predisposizione per la vendita nel eh repubblica popolare cinese e che fino alle vazioni di questi tazzi venivano tranquillamente qualificati come made in China ma che dopo l'applicazione dei tazzi tra Stati Uniti e Cina non avrebbero potuto più essere competitivi nel mercato nel mercato statunitense perché alla presentazione endogana di un prodotto made in China veniva applicato un dazio protettivo. Allora abbiamo invece per molti di questi scoperto insieme con le aziende che in realtà le lavorazioni effettuate sul semilavorato in Italia consentivano il perdurare l'origine italiana conciò togliendo quel dazio aggiuntivo che sarebbe stato posto se fossero stati eh proposti in importazione come made in China. Eh l'altra criticità che affronteremo come ricordava già da Platania in un webinar dedicato è legato alla eh discontinuità che si è generata tra Unione Europea e Regno Unito con eh l'accordo raggiunto tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson solo il 24 dicembre del 2020. Su questo eh possiamo dire adesso preliminarmente che abbiamo già visto, l'abbiamo visto anche nelle telegiornali che si è generata una complessità legata al fatto che esistono ora al primo gennaio delle formalità doganali quindi un traffico di prodotto agroalimentare anche che sia destinato al territorio del Regno Unito dovrà sottostare a una dichiarazione di esportazione quindi presentata innanzi ad una dogana italiana o unionale ed anche poi ad una dichiarazione di importazione con il rischio di essere esposti al pagamento di dazi se i prodotti non sono originari ma ci torniamo tra un attimo su questo aspetto e comunque ad univano importazione. Ebbene ciò che è importante ricordare è che eh il driver fondamentale per neutralizzare ogni dazio nei rapporti reciproci con il Regno Unito è sostanzialmente quello di ehm offrire al mercato un prodotto originario. Se un prodotto può freggiarsi del titolo di originario dell'Unione Europea con parametri particolari anche per il settore agroalimentare quel prodotto a destinazione del Regno Unito non pagherà dazio e ovviamente viceversa per ciò che ci può interessare nella reciprocità resterà da onorare l'adempimento formale e resterà da onorare ovviamente l'IVA in importazione. Per darvi un'idea e poi la slide ovviamente resta nella vostra disponibilità dopo il webinar vi verranno spedite le copie. Qui abbiamo una rappresentazione sintetica con riferimento ai prodotti agroalimentari di come si siano dispiegati i maggiori dazi. Ci sono ancora dei dazi supplementari che vanno dal quindici al venticinque per cento eh per effetto di provvedimenti adottati dall'ufficio di rappresentanza per il commercio degli Stati Uniti sempre legati alla disputa Airbus Boeing che lo vedete si applicano a prodotti di origine italiana come lo yogurt, il burro, il parmigiano, il provolone, il pecorino, liquori, quindi bevande alcoliche e spiritose, carne di maiale, arance, insomma c'è un ampio range di prodotti dalla frutta ai prodotti cartierocaseari a eh i salumi che sono ancora incisi da eh significative eh aliquote taziale che ovviamente aggravano la commerciabilità di questi prodotti sul territorio degli Stati Uniti. Ci sono poi una serie di prodotti eh su un elenco che è stato pubblicato eh tra aprile e luglio del diciannove che sono ancora oggetto di analisi ma che non hanno ancora subito alcuna eh imposizione taziaria ulteriore riferita sempre alla disputa tra Airbus e Boeing e poi c'è un eh un nuovo elenco eh di prodotti eh tra i quali lo vedete olive, caffè, vodka e cioccolata che con origine tedesca, spagnola eh britannica e francese senza per il momento aver incluso prodotti di origine italiana sono in analisi perché eh si sta valutando la possibilità di eh di sottoporli ad azio scusate ad azio eh ulteriore. Abbiamo poi aspettate che qui ecco abbiamo poi eh una eh serie di eh interventi che sono recenti e che sono stati ehm introdotti dalla eh USTR quindi sempre dall'ufficio di rappresentanza per il commercio i quali eh colpiranno maggiormente la Francia, la Germania eh mentre risparmiano lo vedete l'Italia, il Regno Unito e la Grecia che in realtà eh è stata eliminata addirittura dai paesi che sono colpiti dai tazzi. Su questo aspetto voglio solo sottolineare che evidentemente il ehm l'amministrazione statunitense, la USTR non discrimina i prodotti in ragione della provenienza come dire del consolidato del mercato unionale cioè l'obiettivo come fu peraltro in passato quando presidente in periodi non troppo lontani era eh George W. Bush non dice io applico un dazio su un prodotto dell'Unione Europea ma fa riferimento all'origine non preferenziale quindi all'indicazione made in il prodotto sarà discriminato nel territorio statunitense se esibirà un made in France, un made in Germany e eh se del caso un made in Italy. Ricordo che in passato addirittura il livello di analisi di dettaglio per l'applicazione di tazzi ritorsivi nei confronti del prodotto italiano faceva il nome del prodotto. Mi ricordo acqua San Pellegrino piuttosto che parmigiano reggiano con il produttore piuttosto che pasta barilla quindi venivano indicati i eh nomi le denominazioni dei prodotti i quali evidentemente subivano una penalizzazione per effetto di questi maggiori tazzi. Ora qual è il modo per mitigare eh l'impatto daziario eh rispetto a questa maggiore ehm come dire incisività della eh della rilevanza doganale del trasferimento? Ebbene esistono degli strumenti che in realtà non sono previsti dalla normativa statunitense ma come quello che vedete a video eh proposto per effetto di una sentenza che ha eh sposato un principio di ottimizzazione del valore secondo il quale laddove esista lo vedete un eh un traffico eh che veda un produttore nel nostro caso lo mettiamo stabilito in Unione Europea in qualunque paese dell'Unione Europea quindi anche nel nostro paese il quale abbia una prima cessione nei confronti di un intermediario che può essere residente ovunque tanto in Italia quanto in Unione Europea quanto in ogni altro paese eh che non siano gli Stati Uniti e questo poi faccia una successiva fattura bene è possibile negli Stati Uniti applicare il valore della prima fattura quindi quella che qui vedete tra produttore e intermediario piuttosto che il valore della seconda eh dunque all'importazione se diamo un numero e la prima fattura vale cento la seconda vale centocinquanta il maggior dazio comunque il dazio applicabile per il codice di classificazione del prodotto che si intende commercializzare negli Stati Uniti potrà essere rapportato alla base imponibile cento e non alla base imponibile centocinquanta questo lo segnalo perché prima parlavo dei quattro eh settori pregiati del nostro export quindi il tessile l'arredo l'automotive e alla fine l'agroalimentare che oggi trattiamo ebbene molti dei player degli attori di questi settori mi riferisco in particolare alla moda ma anche all'automotive hanno già da tempo adottato soluzioni di questo genere per ottenere a destinazione il l'accertamento doganale su una base imponibile più compressa questo è un fatto interessante perché in realtà fare un setup di questo tipo di struttura non è eccessivamente oneroso comporta semplicemente che la spedizione della merce realizzata dal produttore faccia trasporto diretto quindi tra chi produce e chi importerà senza che ci sia una eh come dire triangolazione anche fisica e inoltre impone che la merce che deve essere commercializzata negli Stati Uniti e che che potrà avvalersi della minor base imponibile riferita alla prima fattura eh nasca per essere destinata al mercato statunitense che vuol dire questo vuol dire che bisognerà opporre a eventuali richieste da parte dell'amministrazione americana che dovrà validare l'impiego della prima fattura il fatto che quel prodotto sia stato ordinato dalla statunitense per un'esigenza prospettica legata al prossimo trimestre al prossimo semestre al prossimo anno che dica ho bisogno di 50 forme di parmigiano reggiano per il primo trimestre del duemila eh del duemilaventuno ebbene quel purchase order quell'ordine d'acquisto dovrà essere registrato preso in carico dal produttore che realizzerà quelle 50 forme di parmigiano destinate al mercato statunitense dunque questo principio non può applicarsi se invece il prodotto che verrà esportato destinazione degli Stati Uniti sia un prodotto a stock ripeto è necessario che si possa dimostrare questo vale per tutti i settori non soltanto per quello agroalimentare che lo stock per il quale si chiede di applicare una base imponibile più bassa riferita alla prima fattura eh nasca per una esigenza rappresentata dal mercato americano e non sia in realtà ripreso da uno stock già esistente ehm l'altro aspetto sul quale dicevamo faremo un approfondimento verticale in un prossimo incontro il nostro prossimo incontro è quello della grande discontinuità generata dalla nuova relazione con il Regno Unito in poche parole per dare una sintesi di ciò che è accaduto ricorderete che fino alla vigilia di Natale sembrava si andasse a un nuovo deal quindi ad una eh ad un burrone ad un precipizio che alla mezzanotte del 31 dicembre avrebbe qualificato le relazioni come tra soggetti del tutto estranei dunque con certamente le formalità doganali ma anche e soprattutto questa è la più grande preoccupazione con tutti i dazi previsti su tutte le diverse categorie di prodotto non solo ci sarebbe stato un grande problema relegato anche alla conformità voi sapete gestite eh voi che partecipate a questo evento un traffico di prodotto agroalimentare sapete che nelle relazioni internazionali talvolta anche intraunionali i prodotti di questo genere impongono il corredo di certificati sanitari fitosanitari che eh supportino eh le tutele dei consumatori nei vari mercati di riferimento bene questa conformità questo comune linguaggio che fino al trentuno dicembre era condiviso a livello unionale in caso di no deal avrebbe visto anche soprattutto questi prodotti molto penalizzati perché non riconoscendo le indicazioni per la tutela del consumatore avremmo potuto subire degli stop eh drammatici per la delivery di questi prodotti in realtà l'accordo del ventiquattro ha in estrema sintesi qualificato le due parti come appartenenti ad un'area di libero scambio questo vuol dire eh che tra le due parti ci saranno certamente formalità doganali però per le merci originarie di una parte che vadano nell'altra e viceversa non saranno applicati i dazi il concetto di originario è mutuato dai principi di origine preferenziale che in realtà qualificano la relazione tra due paesi rispetto ai quali per ogni categoria di prodotto per ogni codice di classificazione all'accordo di partenariato raggiunto il ventiquattro dicembre del venti venti si eh allega una lista per la quale per i diversi codici è proposta la regola rispettata la quale il prodotto è di origine ora per i prodotti agroalimentari laddove questi siano interamente ottenuti dunque per esempio un prodotto che sia eh di origine eh dalla coltivazione diretta quindi pensate alla frutta eh ovviamente anche a un prodotto lattiero caseario che abbia le caratteristiche ad esempio del parmigiano reggiano che addirittura identifica la filiera delle dei bovini che da cui si attinge il latte per realizzarlo a cui si sono prodotti che certamente sono o interamente ottenuti o ottenuti con prodotti originali questi non avranno un problema a eh diciamo presentarsi come meritevoli di un dazio zero per prodotti invece composti mi riferisco ai prodotti di secondo livello sempre del settore agroalimentare ma che vengono realizzati con una composizione di elementi o di ingredienti non necessariamente tutti unionali bene sarà necessario verificare se si rispettano quei criteri ad esempio imposti da valori soglia si potrà trovare che per un certo tipo di prodotto non so una merendina piuttosto che eh un prodotto articolato eh si faccia riferimento al prezzo ex worth per cui si dirà su prezzo cento quel prodotto resta originario unionale se la composizione percentuale non vede la parte non originaria eccedere ad esempio una soglia del trenta per cento dunque sarà cura onere dell'esportatore unionale a valersi a diciamo acquisire le informazioni dai propri fornitori per essere in grado in questa ultima circostanza di comporre il quadro di valore del prodotto che sta esportando e poter attestare verso il proprio cliente britannico di aver eh rispettato preferenza e quindi di meritare per i propri prodotti un'applicazione di tazio zero ovviamente lo accennavo poco fa alla brutale formalità doganale quindi la dichiarazione di esportazione e alla dichiarazione di importazione che devono essere onorate e che esprimono eh come dire la documentazione tradizionale di una relazione doganale ripeto si aggiungono delle documentazioni necessarie legate alla tipologia di prodotto del prodotto agroalimentare che sono espresse dalle certificazioni che per ogni tipologia di prodotto sia esso un prodotto lattiero caseario piuttosto che un salume impongono una riconoscibilità del prodotto e il fatto che quel prodotto possa essere poi appunto eh commercializzato nel Regno Unito ed è questo anche l'altro aspetto che eh diciamo ha eh risolto l'accordo di dicembre perché in assenza di un accordo come vi dicevo saremmo tornati ad un anno zero rispetto alla comprensione delle specifiche di prodotto e avremmo potuto avere delle inibizioni dei vincoli o dei divieti per la movimentazione reciproca di prodotti della specie eh come vedete con il nuovo accordo abbiamo ovviamente riqualificato la natura delle operazioni per cui per le importazioni del Regno Unito avremo certamente un dazio zero per i prodotti che avranno da quel paese un'origine preferenziale e eh ci saranno invece i dazi se questa origine non potrà essere dimostrata. Stessa cosa al contrario l'abbiamo detto poco fa eh quindi sarà opportuno qualificare gli approvvigionamenti in caso di realizzazione nel nostro paese di prodotti articolati per disporre sempre delle attestazioni che i fornitori devono rilasciare per consentire all'esportatore italiano di legittimamente eh sostenere la preferenza per ottenere il pazio zero. Ecco voglio ricordare un'ulteriore criticità che si è generata eh nella eh relazione con il Regno Unito e quella legata ovviamente all'esigenza di onorare formalità doganali quindi di sottoporre il traffico merci a controlli che prima non erano previsti in una circolazione libera eh tra i paesi appartenenti all'Unione Europea. Ecco voglio ricordare ma lo vedremo più avanti nel corso di questa nostra conversazione che il modo per mitigare eh la eh criticità rappresentata dal doversi fermare, subire un controllo e ripartire è quello di assumere la qualifica di AEO che in estrema sintesi consente di qualificare l'operatore emittente quindi nel nostro caso l'esportatore unionale come soggetto affidabile e concede all'autorità britannica di smarcare una serie di controlli di sicurezza che diversamente sarebbero condotti sul prodotto. Quindi vuol dire proporsi come soggetto affidabile, come soggetto certificato ed esiste nell'accordo dell'altra eh novità dell'accordo di dicembre un mutuo riconoscimento tra lo status di AEO unionale e l'AEO britannico. Evidentemente questa reciprocità comporta che una esportazione fatta dal Regno Unito verso il nostro paese abbia pari agevolazioni nella eh nella eh di spiegarsi delle formalità doganali. Bene allora a questo punto eh lascio eh la parola eh passo la parola ad Aurora per eh quanto concerne eh grazie Massimo eh credo che mi divi sì sì ti sto facendo presente ecco qua dovresti avere hai tutto. Riuscite a vedere la presentazione? Tutto bellissimo. Tutto bellissimo. Tutto perfetto. Allora buongiorno a tutti. Come dicevamo le imprese italiane si caratterizzano proprio per per la necessità per la volontà di procedere all'esportazione dei propri prodotti ed è per questo che abbiamo riservato particolare attenzione alla descrizione di quelli eh che sono i requisiti per effettuare una cessione all'esportazione oltre che delle condizioni previste per il porre in essere un'esportazione doganale. Iniziamo a comprendere che cosa sono ai fini IVA le cessioni all'esportazione. in particolare che costituiscono questa tipologia di operazioni quelle transazioni che avvengono diciamo eh in diverse maniere. Parliamo di esportazioni dirette innanzitutto quando vengono poste in essere delle cessioni nei confronti di altri soggetti passivi eseguite mediante trasporto spedizioni fuori dal territorio dell'Unione Europea a cura o nome dei cedenti. Diciamo che questa è la forma normale più eh ricorrente di cessione alle esportazioni e si riferisce ad una vendita di beni esistenti nel territorio dello Stato che intercorre tra due diversi soggetti passivi di imposta e si caratterizza perché in questo caso è il venditore che provvede a trasportare o a spedire i beni al di fuori del territorio dell'Unione. Rientrano all'interno delle cosiddette esportazioni dirette anche le esportazioni effettuate tramite commissionari. Si tratta quindi della medesima tipologia di cessione alle esportazioni che prevede però il coinvolgimento di un soggetto diverso ed ulteriori per l'appunto il commissionario. Anche in questo caso il trasporto avviene però sempre a cura o nome dei cedenti ovvero dei commissionari. In sostanza perché si verifichi una cessione all'esportazione diretta è necessario che si realizzino tre principali condizioni. Deve esservi un trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni che vengono trasferiti, deve avvenire la materiale uscita delle merci al di fuori del territorio dell'Unione europea e il trasporto deve essere a cura o a nome del cedente. Non è essenziale tuttavia il requisito dell'onerosità quindi benché sia cruciale il fatto che avvenga il trasferimento del diritto di proprietà non allo stesso modo questo deve essere trasferito a titolo oneroso. Esistono poi altre tipologie di esportazioni che sono quelle descritte dalla lettera B dell'articolo 8 del DPR IVA. In questo caso la disposizione in commento fa riferimento a delle esportazioni che avvengono però per mano dei cessionari non residenti. In questo caso infatti il trasporto o la spedizione delle merci al di fuori del territorio unionale deve essere effettuato da parte dei cessionari non residenti entro 90 giorni dalla consegna a cura del cedente sul territorio nazionale. Che cosa si deve rammentare? La norma IVA contenuta all'interno dell'articolo 8 ancora fa riferimento e richiede ai fini della testazione della prova dell'esportazione che questa risulti da un documento doganale ovvero da una vittimazione apposta dall'ufficio doganale sull'esemplare della fattura o sul documento di trasporto. In realtà diciamo questo richiamo è risalente e non più corretto poiché attualmente tutte quante le procedure e le operazioni di esportazioni possono essere provate grazie al sistema telematico come meglio vedremo più avanti nella presentazione che è costituito principalmente da un messaggio elettronico il cosiddetto MRN il movement reference number che attesta per l'appunto l'effettuazione e la conclusione dell'operazione doganale di esportazione. Andiamo però prima ad analizzare diciamo l'ultima tipologia di operazione che viene assimilata a quelle di esportazioni perché anche questa è un'operazione non imponibile ma non richiede in questo caso il trasferimento dei beni al di fuori del territorio unionale. Si tratta di quelle cessioni che vengono effettuate nei confronti di particolari soggetti che rivestano la qualifica di cosiddetti esportatori abituali e che si concludono quindi all'interno del territorio nazionale ma in ogni caso beneficiano nella non imponibilità prevista dall'articolo 8 primo comma lettera c questo perché avviene queste operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali beneficiano di un regime di non imponibilità perché vengono effettuate verso soggetti che abitualmente svolgono attività diciamo operazioni non imponibili e quindi sono riconosciute nella prospettiva di evitare o comunque ridurre il fisiologico credito IVA in cui si trovano queste tipologie di soggetti passivi il plafond è uno strumento che si sostanzia nella facoltà di acquistare o importare dei beni o servizi senza pagamento dell'imposta e per l'appunto corrisponde all'ammontare delle operazioni che gli esportatori abituali pongono in essere continuo di non imponibilità i soggetti che possono godere dell'agevolazione per l'appunto gli esportatori abituali sono quelli quindi che effettuano con frequenza le operazioni cosiddette non imponibili e quali sono ripercorriamole quelle di cui abbiamo appena parlato le esportazioni dirette le operazioni assimilate alle esportazioni i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e poi anche le cessioni di beni e le servizi che vengono effettuate a livello intracomunitario perché però un soggetto possa definirsi esportatore abituale questa tipologia di operazioni deve essere svolta in numero importante in particolare lo status di esportatore abituale si acquisisce quando l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili che abbiamo menzionato è superiore al 10 per cento del volume d'affari gli acquisti e quindi effettuati con titoli non imponibilità possono essere effettuati nei limiti del plafond il quale come dicevamo è costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili che abbiamo elencato registrate ai fini iva nell'anno solare precedente oppure nei 12 mesi precedenti si parla in questi casi di due diversi tipi di plafond rispettivamente del plafond solare e del plafond mensile abbiamo parlato sinora di cessioni all'esportazione quindi di operazioni riconosciute agli effetti dell'iva come tali esistono tuttavia delle operazioni di esportazione che non si qualificano come cessione all'esportazione bensì possiamo trovarci di fronte a delle esportazioni che siano definitive ma ad esempio non riconoscano il passaggio della proprietà del bene che si sta movimentando magari perché il bene è destinato alle alla reimportazione successivamente alla loro lavorazione o semplicemente perché il bene è diretto ad essere visionato ma non certamente acquistato o ancora è come dicevamo è collegato allo spostamento per una lavorazione estera ma il la movimentazione non è accompagnata dall'utilizzo di un regime doganabile come quello del perfezionamento passivo ecco in questi casi non si può certamente parlare di cessioni alle esportazioni ma si ha comunque un invio di materiali al di fuori della comunità da parte di un soggetto nazionale il quale deve quindi porre in essere un'esportazione ai fini meramente doganali che cosa si intende si intende sostanzialmente un regime che viene posto in essere da il soggetto in questione che permette alle merci comunitarie di essere destinate al di fuori del territorio doganale della comunità in questi casi si deve porre in essere un'operazione di esportazione presentando le merci in dogana accompagnate da una serie di documenti tra i quali appunto la fattura commerciale o la fattura profonda laddove non vi sia quindi il passaggio di proprietà a cui facevamo riferimento prima un documento di trasporto e una packing list che è un documento non rilevante al punto di vista fiscale ma nel quale sono indicati effettivamente tutti i dati che identificano la merce destinata all'esportazione una caratteristica recente diciamo del regime delle esportazioni doganali che vale la pena porre alla vostra attenzione è quello che richiede che la persona indicata diciamo che attiva questo regime che venga poi menzionata nella casella numero 2 del tau deve essere sempre un soggetto stabilito nell'unione europea si faccia attenzione perché per soggetto stabilito non si intende un soggetto registrato ai fini iva in italia non è quindi sufficiente avere un'identificazione fiscale diretta ai sensi dell'articolo 35 ter del dpr iva oppure avere nominato un rappresentante fiscale in italia occorre proprio che il soggetto sia stabilito nell'unione europea e quindi abbia costituito una società in uno stato membro ovvero una stabile organizzazione diversamente al di fuori di questi casi il soggetto in questione non può apparire nella casella del 2 del tau e quindi figurare come esportatore ma deve necessariamente ricorrere ad un terzo ad un rappresentante doganale che possa svolgere la funzione di esportatore per poter porre essere questo tipo di regime l'esportazione definitiva viene quindi appurata dalla dogana successivamente alla presentazione di una dichiarazione che viene predisposta su un formulario questo formulario è definito da un documento amministrativo unico per la dichiarazione dell' esportazione devono essere utilizzati gli esemplari i primi tre esemplari del dao poiché il primo viene conservato dall'ufficio doganale il secondo è lasciato all'istituto di statistica dello stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione presso il quale si sta svolgendo questa operazione e il terzo la cosiddetta copia figlia è restituito all'interessato e quindi all'esportatore laddove si utilizzi un procedimento informatico come diciamo usualmente spesso avviene non viene più rilasciato l'esemplare numero 3 del documento amministrativo ma viene rilasciato il da e che il documento di accompagnamento di esportazione che come vi menzionavo prima diciamo si caratterizza per essere identificato tramite questo codice alfanumerico costituito da 18 caratteri che è l'mrn il movement reference number che sostanzialmente caratterizza il da e identifica la spedizione e traccia la merce per verificare per l'appunto che questa sia poi uscita al territorio doganale dell'unione come diciamo quali sono gli elementi per gli step per portare a termine una esportazione doganale all'atto dell'esportazione le merci come dicevamo vengono presentate all'ufficio competente che è l'ufficio di esportazione munite della dichiarazione di esportazione e quindi del del dao precompilato l'ufficio doganale che riceve la dichiarazione acquisisce sul proprio sistema il modello e concede poi lo svincolo della merce rilasciando il modello da e che consegna all'esportatore affinché scorti la merce insieme a questo documento sino all'uscita del territorio doganale perché perché può accadere che l'ufficio doganale di uscita non coincida necessariamente con l'ufficio doganale di esportazione quindi di partenza ciò si verifica ad esempio nel caso in cui le merci siano dirette in norvegia e siano presentate per le formalità doganali presso l'ufficio di milano l'ufficio doganale di esportazione e quindi in questo caso di partenza le merci però escano poi successivamente dal territorio doganale dell'unione presso l'ufficio immaginiamo di hamburgo che rappresenta in questo caso l'ufficio doganale di uscita quindi che cosa succede in questo caso la prova delle merci il fatto che abbiano abbandonato il territorio doganale dell'unione è costituito dal messaggio risultati di uscita che viene inviato dall'ufficio doganale di uscita nel nostro caso quello di hamburgo a quello di partenza nel nostro caso quello di milano quando l'ufficio di uscita manda questo messaggio all'ufficio doganale di esportazione si intende realizzata l'operazione doganale di esportazione e quindi è fondamentale per l'appunto che l'ufficio doganale di uscita verifichi sulla base del dai che ha scortato la merce l'identità delle dei beni che hanno lasciato l'ufficio doganale di milano nel nostro caso l'ufficio doganale di esportazione e quelli che hanno raggiunto l'ufficio doganale di hamburgo in buona sostanza il da e serve laddove vi sia un disallineamento tra l'ufficio doganale di esportazione e di uscita a verificare che le merci siano rimaste le medesime per tutto quanto il tragitto e a confermarne poi la definitiva uscita un altro elemento fondamentale perché venga posta in essere l'esportazione è il codice eori che cos'è le ori dal primo luglio del 2009 è previsto che tutti i soggetti i soggetti che effettuano operazioni doganali siano dotati di questo codice che è la cronica mo di economic operator registration ed identification si tratta di un codice univoco di registrazione che serve per porre in essere tutte quante le tipologie di operazioni doganali e non solo deve essere indicato in moltissime richieste di autorizzazione come per esempio quella per prevista per la richiesta della io il codice consente diciamo una identità il riconoscimento di un'identità all'operatore nei confronti delle nei rapporti con le diverse autorità doganali dell'europa tant'è vero che viene riconosciuto un solo codice eori per un soggetto stabilito all'interno dell'unione europea pur laddove questo sia identificato con diverse partite iva all'interno degli altri stati membri quindi pur a fronte di riconoscimento di numerose identificazioni ai fini dell'iva in diversi stati membri viene rilasciato uno un solo ed unico codice eori per confrontarsi con la dogana poniamo attenzione al fatto che sebbene un soggetto non stabilito all'interno dell'unione europea possa avere in effetti un codice eori che gli venga riconosciuto all'atto della registrazione quindi dell'effettuazione della prima operazione doganale in realtà questo potrebbe non essere affatto sufficiente a porre in essere una esportazione doganale poiché come abbiamo detto prima l'esportatore deve essere necessariamente un soggetto stabilito all'interno dell'unione europea ed è in questo caso che diventa fondamentale fruire del supporto di un rappresentante doganale cerchiamo di capire dunque chi svolge il ruolo di rappresentante doganale chi è e quali responsabilità si riversano appunto nella nello svolgimento di questo ruolo come dicevamo il passaggio della linea doganale impone la conoscenza di un linguaggio tecnico molto peculiare che è quello doganale che serve però per poter colloquiare con l'autorità è preposta riceve la dichiarazione pertanto gli operatori che svolgono operazioni doganali possono scegliere sulla base dei trattati internazionali hanno il diritto di scegliere se rapportarsi direttamente con la dogana oppure incaricare un soggetto terzo che possa agire nel loro interesse chi è quindi il rappresentante doganale il cdu il codice doganale unionale identifica il rappresentante doganale in qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previste la normativa doganale e chi è quindi come possiamo definire dunque la persona si tratta di persona fisica ovvero giuridica ovvero di qualsiasi associazione di persone che non siano una persona giuridica che hanno però la capacità di agire in particolare di fronte ad un'autorità doganale nel nuovo diciamo impianto normativo che è stato inserito all'interno del codice doganale unionale è stata eliminata la facoltà per gli stati membri di riservare a determinate categorie di soggetti la presentazione della dichiarazione doganale questo era quello che accadeva anche all'interno del nostro ordinamento con che diciamo prevedeva che solamente gli spedizionieri doganali potessero svolgere la rappresentanza doganale nel nuovo codice l'auspicio del legislatore che la rappresentanza doganale sia di fatto libera e che vengano previsti dei requisiti da parte di uno stato membro che siano diciamo sostanzialmente allineati nell'ambito di tutta l'unione europea e nella fattispecie quello che è stato previsto dall'articolo 18 del codice doganale unionale è che per l'appunto potendo chiunque nominare un rappresentante fiscale il rappresentante doganale deve soddisfare i criteri previsti dall'articolo 39 del cdu dalle lettere da a a d per poter prestare questi servizi in un qualsiasi stato membro anche diverso da quello in cui è stabilito che cosa succede quando si delega un rappresentante doganale a svolgere le proprie il a gestire i rapporti con la dogana in realtà si può scegliere se delegare il rappresentante nell'ambito di un rapporto di rappresentanza diretta ovvero indiretta andiamo a vedere dunque quali sono le caratteristiche di queste tipologie di mandato la rappresentanza può essere diretta laddove il rappresentante doganale agisce in nome per conto di un'altra persona oppure se in diretta se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto questa volta di un'altra persona in questi diciamo casi la principale differenza per l'operatore che deve essere rappresentato è dato dal fatto che nell'ambito della rappresentanza indiretta il rappresentante doganale acquisisce una responsabilità solidale con il soggetto che gli ha conferito il mandato chiaramente questo aspetto diventa fondamentale per il mandante che può sentirsi certamente più confidente nel sapere che il rappresentante doganale spreterà nel miglior modo possibile il proprio incarico vedendosi lui stesso coinvolto diciamo in nel rischio di eventuali responsabilità proprio al fine di sterilizzare eventuali difformità nell'ambito dei diversi stati membri come dicevamo è stato riconosciuto un unico criterio per poter identificare un rappresentante doganale legittimamente questo deve soddisfare tutte quante le condizioni previste dall'articolo 39 dalle lette da a a d che sono sostanzialmente i requisiti previsti per ottenere il rilascio dello status di a eo quali sono questi requisiti innanzitutto vi deve essere l'assenza di violazioni gravi o ripetute nell'ambito della normativa doganale e fiscale deve esistere deve avere questo soggetto un sistema di gestione delle scritture commerciali deve avere una riconosciuta solvibilità finanziaria e in ogni caso deve avere un uno standard di competenza nell'ambito del settore doganale e proprio partendo da questi requisiti si è quindi riconosciuto a determinati soggetti la qualifica di rappresentanza diretta quindi sono certamente idonei a svolgere questo tipo questa tipologia di rappresentanza idoganalisti professionisti iscritti all'albo i centri di assistenza doganale i cad che sono delle forme di società di capitali costituite in forma associata esclusivamente da spedizionieri doganali iscritti all'albo all'albo e poi i soggetti economici ai quali hanno già riconosciuto sono in possesso dello status di a eo come ad esempio le case di spedizioni o altri corrieri gli altri soggetti economici che siano interessati ad aver riconosciuto e a svolgere le prestazioni di servizi di rappresentanza diretta devono produrre un'apposita istanza al diciamo all'agenzia delle dogane e laddove sostanzialmente ricorrano i requisiti che abbiamo menzionato possono ottenere e svolgere la rappresentanza diretta si tratta in particolare dei soggetti la cui attività ad oggetto la fornitura di prestazioni e servizi di consulenza di carattere tributario ed o canale ma che non sono ancora in possesso dello status e o oppure soggetti che pur svolgendo diciamo un'attività diversa da quella propriamente tributario ed o canale hanno un'organizzazione aziendale che comunque prevede un'adeguata struttura interna proprio dedicata alla gestione di attività connesse ai servizi doganali pur non essendo in possesso dello status eo e soggetti che pur svolgendo in ogni caso attività diverse da quelle menzionate sinora hanno comunque già riconosciuto lo status a eo abbiamo già parlato in effetti delle forme di rappresentanza e posso quindi passare nuovamente la parola a massimo per fare riferimento proprio per parlare della eo a cui abbiamo appena fatto cenno ti ridò la parola massimo grazie allora adesso ricondivido schermo diamo il frattempo saluto la collega signor fei di confine di sardegna che è arrivata buongiorno benvenuta allora vediamo qui che trattando dell'esportazione il riferimento ad adempimenti che qualcuno di voi potrà dire non devo seguire io tanto ci penserà il dichiarante doganale in realtà riteniamo sia importante condividerli con voi perché c'è un fatto che ci porta anche adesso a parlare di aio ogni azienda residente nell'unione europea ma non solo diciamo questo avviene anche in altre circostanze in altre giurisdizioni può gestire queste operazioni quindi la formazione di una dichiarazione doganale anche per conto proprio magari avvalendosi del dichiarante ma gestendo le attività di import export direttamente presso i propri locali questo vuol dire che intanto si come dire contiene il tempo tecnico necessario per un'operazione di esportazione o di importazione e soprattutto si gestiscono meglio tutte le variabili del rapporto internazionale prima la collega faceva riferimento all'esigenza di disporre della prova dell'avvenuta esportazione bene in un rapporto chiamiamolo tradizionale per il quale un soggetto esportatore faccia una cessione ceda ex works quindi affidi la propria merce ad un trasportatore il quale poi andrà in dogana farà la dichiarazione di esportazione ecco l'esportatore italiano in una circostanza di questo tipo non ha alcuna notizia di ciò che accadrà la merce di dove questa merce avrà lasciato il territorio dell'unione europea ora esiste ma non da ultimo non con il codice dogana unionale già con il codice dogana comunitario la possibilità di fare dogana presso i propri locali quindi di poter acquisire la titolarità da parte dell'amministrazione di poter identificare un luogo cosiddetto luogo approvato dal quale far uscire al quale far giungere merce che sia ancora lo stato estero se di provenienza extra unionale o che partendo da quel punto abbia già corredo la dichiarazione di esportazione ecco tutto questo può essere fatto certamente da un soggetto ordinario da un operatore economico ordinario non qualificato ma a maggior ragione da chi abbia la qualifica di ae o come accennavamo poco fa la io è uno status una qualifica che riconosce quelli che nel mercato globale sono definiti trust trader quindi soggetti affidabili innanzi alle autorità di controllo che vuole discriminare questo il termine tra chi abbia la io o quale sia l'omologo l'omologa definizione utilizzata in diverse giurisdizioni la io che è in grado di opporre pubblicamente degli standard di qualità e di gestione che sono nell'ambito delle linee di come dire di compliance che sono armonizzate a livello internazionale e invece un soggetto che trust trader non è che operatore affidabile non è al quale dunque tutte le autorità di passaggio potranno e dovranno chiedere ogni tipo di informazione legata non soltanto ai contenuti formali delle proprie documentazioni ma anche con riferimento alle tipologie di prodotto a altre documentazioni a corredo ecco diventare io è un'opportunità eh che consente di risolvere alcune delle eh questioni che si devono ogni volta riaffrontare in dogana per dare conto all'autorità doganale non solo italiana ma di tutti i paesi unionali perché la io ha dignità unionale e di tutti i paesi non unionali con cui la io è in reciprocità segnalo tra gli altri la Cina gli Stati Uniti ora è il Regno Unito quindi paesi con i quali abbiamo un intenso traffico commerciale che quel soggetto non ha bisogno di essere controllato in alcune componenti del proprio della propria movimentazione e questo ovviamente dà competitività dà velocità e dà una eh riduzione dei costi generali di feriti a quello che viene definito merchandise processing fee come si acquisisce lo status di AEO intanto bisogna dimostrare di rispettare degli standard pratici di competenza rispetto alle materie che qui stiamo trattando vuol dire che è un soggetto che voglia dire io conosco il diritto doganale il commercio internazionale deve poter provare questa sua competenza come si può eh esprimere questa competenza formalmente verso l'autorità di controllo la si può fare se chi chiede di diventare AEO ha già una esperienza consolidata nel rapporto internazionale perché è una società che già da tempo effetto a import export che ancora magari ha già eh diciamo ottenuto delle autorizzazioni formali da parte dell'autorità doganale per esempio l'esportatore autorizzato o anche lo stesso luogo approvato o magari un regime sospensivo come il perfezionamento attivo ecco la circostanza che un operatore economico ordinario abbia già ottenuto eh una riconoscimento formale dall'autorità doganale eh supporta il fatto che esista una competenza ove questo non si sia verificato quindi laddove l'operatore ordinario si eh diciamo candidi per diventare AEO eh e non abbia una precedente doganale per cui possa dimostrare di aver già gestito eh relazioni doganali si dovrà eh sottostare a delle indicazioni che la nostra autorità ha diramato quello cioè di frequentare un corso di formazione che attribuisce le competenze AEO esistono alcuni corsi peraltro anche noi eh lo abbiamo in KPMG i quali in 200 ore questa è l'indicazione dell'agenzia delle dogane consentono con la frequenza e con il trattare tutti gli aspetti del diritto doganale unionale ed internazionale di rilasciare un attestato alla l'esponente di un soggetto che voglia diventare AEO e quella persona quel dipendente consentirà alla società di disporre e di eh far valere la competenza proprio maturata per effetto di questa formazione istituzionale che è eh come dire eh asseverata dall'autorità doganale. Ovviamente un operatore AEO come capita per tutti i regimi sospensivi deve dimostrare o meglio scusate un operatore che si candidi a diventare AEO deve dimostrare di avere una comprovata osservanza della normativa doganale cioè di non essere in corso almeno negli ultimi tre anni in gravi violazioni. Il concetto di grave violazione si esprime con riferimento a violazioni di natura fiscale con più eh diciamo con maggior dettaglio sulla frode fiscale al falso piuttosto che al contrabbando se vogliamo parlare di sottrazione del valore all'accertamento in ambito doganale. Dunque laddove un soggetto che voglia candidarsi a diventare AEO sia in corso in circostanze di questo genere non potrà eh accedere all'autorizzazione se esistano provvedimenti già definitivi rispetto al riconoscerlo come colpevole di contrabbando piuttosto che di frode fiscale. Questo è un aspetto importante da ricordare perché eh è una norma questa che da ultimo è stata modificata che prima faceva riferimento a pendenze non meglio definite e che invece nelle ultime settimane ha eh proposto una interpretazione più attenta per la quale esiste la preclusione se c'è un provvedimento definitivo dunque ad esempio una sentenza passata in giudicato che purtroppo eh abbia accertato che quel soggetto è in corso in una di queste gravi violazioni e dunque l'esistenza di tale provvedimento impedisce che eh si possa far valere la comprovata osservanza. Ovviamente parlavamo di qualità di standard eh serve una eh uno standard di sicurezza e questo che vedete al centro questo requisito in verde è solo per il cosiddetto EO security laddove si voglia cogliere appunto anche questa ehm questa ehm questa eh questa particolarità dell'AEO perché lo voglio ricordare le autorizzazioni EO sono due cioè l'AEO customs per diventare per assumere la per assumere il quale è necessario rispondere e soddisfare i quattro requisiti tranne il verde che vedete quindi tranne la sicurezza eh nella supply chain e invece c'è il security che aggiunge anche quella eh condizione per la quale si sia in grado di applicare gli standard di sicurezza e voglio sottolineare che le condizioni di reciprocità internazionali sono riconosciute soltanto se l'operatore dispone dell'AEO security. Direi che eh la migliore eh modalità per porsi rispetto all'autorizzazione EO è di acquisire il cosiddetto EO full cioè di chiedere di essere riconosciuti sia come EO customs sia come EO security per poter consentire a questa a questa autorizzazione di di spiegare i suoi effetti come dicevo non soltanto sul territorio unionale ma in tutti i mercati di destinazione dove esista reciprocità. Gli altri due requisiti eh riguardano uno eh diciamo un classico riferimento alle autorizzazioni doganali e cioè l'avere una tracciabilità nelle proprie rilevazioni contabili disporre di una contabilità trasparente che possa dare conto nel caso di eventuali richieste dall'autorità eh di dove siano le componenti materiali tutto ciò che è movimentato nel traffico internazionale e poi ultimo ma non ovviamente eh diciamo da trascurare la comprovata solvibilità finanziaria cioè il poter dimostrare che chi si candida a diventare EO è in grado di onorare il potenziale debito doganale questo perché diventare EO tra le altre cose consentirà al soggetto così qualificato di assumere sulla propria diciamo nella propria sfera di eh attività eh tutti quei regimi sospensivi che consentono di neutralizzare o di differire il pagamento di tazio IVA dunque ad un soggetto che avrà tale facoltà che quindi potrà introdurre merce nel nostro territorio senza dover pagare dazio ed IVA l'autorità chiede che sia eventualmente in grado laddove la merce sia distratta o immessa in libera pratica eh per qualunque motivo di pagare il debito sottostante ecco perché il richiamo alla comprovata solvibilità quali sono i vantaggi eh prima ne parlavo con riferimento al rapporto con il Regno Unito lì il vantaggio immediato è certamente il fatto di risolvere molti dei controlli che invece vengono elevati su tutti i trasferimenti tra una parte e l'altra della manica diventare EO per effetto dell'accordo di partenariato consente con il Regno Unito ma non soltanto con il Regno Unito di poter ridurre i ritardi nei controlli e quindi di farsi valere come soggetto affidabile anche verso autorità docanali straniere appunto britanniche, statunitensi, cinesi. Eh come dicevo la possibilità dell'AEO è più eh diciamo di avere una maggiore celerità nell'ottenere tutte le semplificazioni docanali. Prima parlavo dei regimi sospensivi ma attenzione l'AEO può assumere a titolo esclusivo la titolarità di regimi che soltanto a chi è ehm diciamo a chi dispone di questa autorizzazione può essere concesso. Mi riferisco allo sdoganamento centralizzato e cioè la possibilità di scegliere la dogana di riferimento con la quale si vuole parlare nell'intero territorio dell'Unione Europea evitando di coinvolgere questo o quell'ufficio doganale. Eh diversamente eh raccontandola questa cosa nella maggior parte dei casi soprattutto le nostre aziende, le aziende italiane eh sono abituate a confrontarsi per l'import e per l'export con più di un ufficio doganale. È molto frequente che ci si avvalga di Genova, Porto, di Malpenza, Aeroporto, di Fiumicino piuttosto che di altri porti eh del nostro paese. Questo vuol dire avere una relazione doganale quindi instaurare un contraddittore doganale per ogni dichiarazione in tutti questi uffici doganali e quindi spendere o disperdere energie quando invece diventando a EO si potrà chiedere di avvalersi dello sdoganamento centralizzato per il quale indipendentemente da dove sarà il passaggio fisico delle merci in qualunque cancello unionale quindi sia che le merci arrivino a Rotterdam, ad Anversa piuttosto che ad Hamburgo, l'accertamento del Dazio, la presentazione delle dichiarazioni potrà essere fatta innanzi alla dogana di eh Palermo piuttosto che eh di Sassari. Questo è interessante perché ovviamente concentra gli adempimenti, non disperde tempo ed energie e consente ai due interlocutori di conoscersi reciprocamente. Se si scegliesse per un traffico import-export attraverso qualunque ufficio doganale europeo, la dogana di Palermo, quell'ufficio doganale conoscerebbe benissimo la società con la quale si relaziona e dunque non sorgerebbero diverse interpretazioni come capita spesso di levare. Mi riferisco al fatto che spesso su uno stesso eh principio, su uno stesso fatto, diverse dogane possono avere opinioni diverse. Quindi ci si trova a discutere della stessa cosa con interlocutori diversi, con ciò quantomeno eh aumentando i tempi di delivery. Le altre due formule che sono esclusive per l'AEO sono l'autovalutazione e cioè la possibilità di dire bene io sono AEO quindi ti chiedo dogana di poter effettuare da solo l'accertamento. Questa è una eh una facoltà che è davvero peculiare del diritto doganale. È una delle prime forme per le quali c'è un'abdicazione della sovranità di accertamento da parte dell'autorità eh di controllo nei confronti dell'operatore privato. Cioè non sarà più per chi gestirà l'autovalutazione. L'autorità doganale è identificare qual è il dazio da pagare per le importazioni ma lo farà direttamente l'operatore economico. Si farà dogana da solo, farà l'accertamento da solo e con una reportistica segnalerà all'autorità doganale qual è il dazio riferito a quella importazione o a quelle importazioni di un certo periodo che dovrà essere pagato. Quindi vedete è un'ulteriore attenuazione di ritardi perché non ci sarà la necessità di avere un contraddittorio con l'autorità doganale. È un contraddittorio che viene affidato per delega all'operatore che ovviamente dovrà gestirlo con la massima attenzione e con la massima diligenza. E poi c'è un'altra formula che è ancora una volta esclusiva per l'operatore economico autorizzato che è l'iscrizione delle scritture del dichiarante e cioè quella possibilità in importazione di prescindere addirittura dalla dichiarazione doganale. Prima vedevamo il DAO, la bolletta, che è la rappresentazione di quale siano le merci che si vogliono proporre all'attenzione dell'autorità per pagare il dazio e l'IVA. Ebbene, questo che è un momento tradizionale, se vogliamo storico, della relazione doganale può essere completamente neutralizzato, eliminato, quando una EO dica, cara dogana, io voglio avvalermi dell'iscrizione nelle mie scritture, questo vuol dire che la merce arriva fisicamente allo Stato estero fino al luogo approvato, quindi fino alla sede del soggetto EO che abbia questa facoltà e la presa in carico nella contabilità, nelle scritture del soggetto importatore vale come dichiarazione. Quindi abbiamo tolto un documento, abbiamo tolto un contatto e se pensate in questi periodi di difficoltà sanitaria, utilizzare queste modalità crea un ambiente del tutto contactless, perché non ci sarà più alcun contatto con nessuno degli interlocutori della relazione doganale, ma anche paperless, perché ovviamente la relazione tra l'operatore economico che gestisce questo tipo di formule di semplificazione sarà fatta in via telematica con l'ufficio scelto per la interlocuzione doganale. Quindi ovviamente c'è una riduzione dei costi complessivi, c'è una maggiore celerità, c'è una maggiore competitività. Inoltre il soggetto EO, proprio per effetto di quel requisito che vedevamo prima, quello della solvibilità finanziaria, nell'esercitare i regimi sospesi, quelli che consentono di non pagare il dazio, di differirlo, di tenerlo sospeso, per i quali normalmente all'operatore ordinario è richiesta la presentazione di una garanzia a copertura del debito potenziale, potranno godere di una riduzione delle garanzie. Questi anche sono minori costi, perché se io devo coprire una garanzia, non so, un dazio complessivo annuale di un milione di euro, diciamo dovrò sostenere un costo. Se invece mi viene ridotto soltanto a 300 mila euro, perché quella è una riduzione che mi può essere concessa, allora ovviamente a parità di business con un soggetto che non è EO, il fatto che l'azienda EO possa avere un minor costo sulla garanzia ovviamente dà una maggiore competitività. Sarà la possibilità di avere un migliore margine o di proporre i propri prodotti per i quali c'è stato un minor costo complessivo a prezzi migliori. Parlavamo dell'ambiente contactless, ovviamente l'EO avrà una riduzione fino al 90% dei controlli fisici e documentali e laddove sia necessario verificare un container per motivi diversi, l'EO viene avvisato e dalla dogana prima che il container venga aperto e potrà scegliere dove e quando quel container potrà essere aperto. Dunque questo è un altro vantaggio sicuramente importante e così come quello che vede l'EO posto su un database unionale accessibile a tutti per un'evidenza pubblica della propria qualità nella supply chain internazionale. Questo dà un vantaggio, l'abbiamo visto sia in termini concreti, sia riconosciuto da alcune survey fatte per esempio da università americane sull'analoga certificazione che viene definita CTPAT negli Stati Uniti. Diciamo è stato verificato che tutti questi vantaggi messi insieme in un arco temporale prestabilito restituivano sui dati economici dei diversi soggetti certificati non soltanto una complessiva riduzione dei costi ma soprattutto un aumento dei ricavi perché ovviamente il soggetto che pubblicamente è noto o riconosciuto da istituzione pubblica come affidabile ha una maggiore facilità nelle relazioni con i partner commerciali ma anche pensate con i partner finanziari dire di essere andare in un istituto di credito e dire di avere l'EO quindi di essere stato riconosciuto come affidabile e solvibile da un'istituzione di controllo ovviamente aiuta in qualunque tipo di interlocuzione qualunque sia l'obiettivo dell'interlocuzione con partner commerciali. E infine ma poi lo vedremo in un secondo momento nel tempo che avremo a disposizione il fatto che visto il successo dell'EO in ambito doganale ai fini IVA le autorità unionali hanno introdotto la prospettiva di regalare diciamo di attribuire pari status per risolvere le complessità legate all'imposta sul governo aggiunto ad un soggetto che verrà definito certified taxable person quindi soggetto passivo certificato. Vorrà dire che dal 2022 per il fatto che sarà l'IVA intraunionale gestita in modo diverso da come oggi il periodo transitorio ci consente di fare. Voi sapete che nelle cessioni, negli acquisti intraunionali esiste una neutralità d'imposta per effetto di un regime che ancora oggi definiamo transitorio. Ebbene c'è un divenire, c'è un'evoluzione in corso di questa IVA comunitaria per la quale in realtà l'IVA dovrà essere anticipata anche nelle cessioni intraunionali. Ebbene il CTP avrà il vantaggio di poter continuare ad avere neutralità nei rapporti tra paesi membri e la cosa interessante per questo che lo richiamiamo qui è che il soggetto che sia già EO avrà ragionevolmente un automatismo nell'assumere anche la qualifica di CTP senza dover diciamo sottostare ad ulteriori istruttori. Ecco dunque che diventare AEO oggi non solo offre tutto ciò che ci siamo detti ma consente da qui ad un anno e mezzo di assumere anche il ruolo CTP che sarà rilevante per una serie di vantaggi che potranno essere colti in sede di gestione degli adempio intiva. Abbiamo già detto di quali sono le diverse tipologie di autorizzazione. Voglio ricordare che già che si esegue una audit per assumere il ruolo di EO vale davvero la pena coglierle entrambe proprio per poter spendere non solo la possibilità di abbadersi delle semplificazioni due canali ma anche di avere ricifrocità nei mercati internazionali. Talvolta le nostre aziende sono spaventate per il processo al raggiungimento diciamo che è necessario mettere in pista per arrivare all'ottenimento dell'autorizzazione. In realtà non è così complicato. Diciamo la complicazione è funzione della dimensione della società. Pensate che l'AEO può essere concesso dalla persona fisica, pensate al dichiarante doganale, alla grande azienda che fa più di 20 miliardi di fatturato. È chiaro che il percorso che esamina i famosi cinque requisiti è lo stesso che però può avere per ciascuno step una, come dire, un'attenzione più ampia con riferimento ai più ampi processi e alla più ampia dimensione dell'azienda. In estrema sintesi a fattore comune cosa si deve fare? Si deve fare un audit interna per comprendere se nelle diverse aree che vedete in basso a destra, quindi l'IT, la security, il customs, le risorse umane, la supply chain, c'è il rispetto di quegli standard che sono proposti dalla Commissione europea nelle proprie linee guida. Per esempio l'attività può essere svolta se affidata ad un team interno o ad un team esterno con interviste dei referenti di area per capire poste gli standard unionali in che misura la procedura esercitata di fatto dalla società in quell'ambito si discosti da queste linee guida. Si tratta di capire dunque se esiste un gap, nella gestione della classificazione doganale, del valore doganale, della origine preferenziale e non preferenziale e va scritta la procedura di come questi aspetti vengono onorati nella compliance di tutti i giorni. La procedura deve rispettare appunto le linee guida, fatta la procedura si potrà depositare l'istanza alla quale va allegato il questionario, un questionario che fa una serie di domande nelle diverse aree e a questo punto l'autorità doganale prenderà atto di questa formalizzazione, prenderà un appuntamento con i referenti della società e stabilirà degli incontri nei quali si condivideranno queste procedure scritte e la dogana potrà chiedere conto del perché alcune attività vengono svolte in un certo modo per avere una piena condivisione, a che verrà dato l'esito e verrà concessa l'autorizzazione. Le aree coinvolte le vedete e se posso segnalare la nostra esperienza, noi abbiamo cominciato a assistere le aziende da quando è stato introdotto l'Eonia 2008, la complessità più grande è quella di mettere tutti insieme seduti rappresentanti delle aree che vedete a video, talvolta non si parlano mai tra colleghi e dunque è importante mettersi seduti, far comprendere anche chi non ha una immediata contiguità con i profili doganali a qual è il fine di questa attività e fare una sorta di roadmap per arrivare a comporre le diverse procedure, le diverse aree pronte per essere poi condivise con l'autorità doganale. Uno degli aspetti più cruciali nell'export di tutte le tipologie di prodotto ma anche nel settore agroalimentare è quella legata all'attestazione di origine, cioè il fatto di poter ottenere un riconoscimento a destino che per effetto di un accordo preferenziale tra il paese di esportazione e il paese di importazione consenta a quel prodotto di avere un dazio agevolato o addirittura un dazio zero. Bene, questi accordi preferenziali come sapete possono essere gestiti in modalità, chiamiamola ordinaria e quindi ricorrendo per ogni singola esportazione al rilascio di un documento che si chiama EUR1 nel quale l'esportatore dichiara sostanzialmente che le merci riferite a quella fatturazione verso quel paese rispondono alle regole di preferenza. Questa attività intanto, come dicevo, è ordinaria e genera delle complessità perché per ogni singola esportazione ci sarà l'adempimento EUR1 che dovrà essere onorato. In realtà esiste la possibilità recata dalla disciplina unionale di riferimento e da tutti gli accordi bilaterali di qualificare un soggetto che abbia quindi significative esportazioni o comunque un'attività di export verso paesi accordisti come esportatore autorizzato. Qual è il cambio di passo in questa circostanza? Innanzitutto che si elimina la necessità di ricorrere sistematicamente all'EUR1 con il rischio talvolta di far uscire qualche EUR1 che non sia esattamente corretto e voglio ricordare che se viene data un'attestazione di origine non corretta questa esprime una falsità ideologica e l'autorità doganale se la rileva può denunciare alla Procura della Repubblica fatto reato quindi denunciando il rappresentante legale mentre chi è esportatore autorizzato potrà ancora una volta definire una procedura con la quale regola disciplina le modalità per identificare se un prodotto è o non è preferenziale e condivisa con l'autorità doganale dal rilascio dell'autorizzazione potrà attestare l'origine preferenziale direttamente in fattura. Si tratta questa di un'attività peraltro che vale la pena di considerare la qualifica di esportatore autorizzato perché se fino ad oggi e lo vedete fino al primo maggio 2021 gli uffici doganati rilasciavano degli EUR1 o altri documenti legati alla relazione con paesi preferenziali in modalità previdimata dal primo maggio la previdimazione non ci sarà più quindi l'onere sarà maggiore perché ogni operatore per ogni singola importazione dovrà comporre tutto l'EUR1 non avendo più il vantaggio di partire da un prodotto chiamiamolo semilavorato e dunque sarà importante per evitare di allungare ulteriormente il tempo della compliance rispetto a questo aspetto di assumere la qualifica di esportatore autorizzato per poter una volta condivisa la procedura dichiarare in fattura il fatto che quella merce è di origine preferenziale comunitaria unionale e dunque consente di avere l'azio zero a destino. Come si fa per diventare esportatore autorizzato? Si deve partire dai codici di classificazione perché le regole di origine sono accostate al codice di classificazione di ciascun prodotto finito. Questo è bene sottolinearlo perché a noi ancora dopo anni di divulgazione ma anche nel confronto con aziende che esportano da 10-20 anni troviamo che spesso i codici di classificazione delle merci che vengono movimentate non sono corretti dunque se si cerca la regola di classificazione per un certo prodotto e vado a cercarla per un codice che non è quello che quel prodotto deve utilizzare troverò una regola di origine sbagliata diversa e dunque qualunque sia il modo che utilizzerò per far valere questa preferenza o la richiesta dell'euro 1 o un'attestazione in fattura quella sarà una dichiarazione falsa quindi partire dal codice di classificazione dalla consapevolezza dei codici è certamente un passaggio necessario per la bontà di tutta la procedura. Dopodiché l'operatore che vuol diventare esportatore autorizzato deve assumere le dichiarazioni le attestazioni da tutti i diversi fornitori questo perché come raccontavo veramente all'inizio molte delle regole fanno riferimento a valorisoglia allora se io realizzo un prodotto che ha delle componenti che acquisto da Tizio Caio Sempronio tutti i residenti nel territorio unionale devo chiedere a Tizio Caio Sempronio di attestarmi se quell'ingrediente che mi stanno mandando se quella componente è preferenziale comunitaria questo perché quando comporrò il prodotto finito dovrò verificare il bilanciamento tra la quota parte di valore unionale e quella non unionale allora se Tizio Caio mi dicono che il prodotto è unionale e Sempronio mi dice no che mi sta mandando un ingrediente giapponese sul valore 100 del prodotto che avrò realizzato devo tenere conto che il 10% poniamo è di origine giapponese allora leggendo le regole bilaterali di ciascun accordo vedrò se quel 10% giapponese mi consente o non mi consente di dichiarare il mio prodotto preferenziale se il valore soglia per le merci non originarie è al 30% non avrò problemi anche se ho 10% di valore giapponese potrò dichiarare il mio prodotto preferenziale se invece il valore soglia è al 5% diciamolo per esempio questo diciamo a titolo di così di casistica esemplare a questo punto se il mio valore non originario è 10 e invece il limite è 5 quel prodotto non potrà essere dichiarato preferenziale comunitario dunque questo è un'altra delle valutazioni che va fatta scusate l'acquisizione delle attestazioni di diversi fornitori attraverso uno strumento rituale che è la long term declaration che vediamo tra un attimo la terza fase riguarda la verifica delle lavorazioni effettuate prescindendo dalla nazionalità dall'origine delle diverse componenti alcune regole dicono che se la lavorazione è sufficiente per esempio mi dà un cambio di voce indipendentemente dall'origine dei semilavorati o degli ingredienti che utilizzo il mio prodotto sarà preferenziale unionale dunque bisogna verificare se quella lavorazione si discosta dalla lista delle lavorazioni insufficienti che è proposta da ogni singolo accordo bilaterale arriviamo poi alla regola io ho un certo tipo di prodotto conosco la classificazione di quel prodotto finito vado a vedere nell'accordo bilaterale che l'unione europea ha siglato con il paese verso il quale devo esportare se questa regola è soddisfatta valore soglia cambio di codice e così via è importante qui sottolineare che benché gli accordi siano tutti molto simili non è detto che per lo stesso prodotto l'accordo con il canada piuttosto che quello con il giappone propongano la stessa regola questo vuol dire che non ci si deve accontentare di dire beh ho verificato l'accordo con il canada il mio prodotto è preferenziale dunque preferenziale verso tutti gli altri 70 non è così se dopo il scontato questo assunto rischio di fare una dichiarazione falsa perché magari esporto oggi verso il canada il prodotto è preferenziale domani esporto verso il messico e lo stesso prodotto propone nell'accordo bilaterale un europea messico una regola molto diversa e quindi il rischio di fare un'attestazione falsa e di rischiare una denuncia alla procura della repubblica ovviamente tutto quello che abbiamo detto 1 2 3 4 va scritto serve una procedura scritta che appunto descriva il chi fa cosa e che possa essere condivisa formalmente con l'autorità la quale preso atto della bontà di questa di questa procedura rilascerà l'autorizzazione al perfezionamento attivo scusate l'autorizzazione all'esportatore autorizzato e ovviamente quando è che questo è necessario e previsto quando ci sono esportazioni verso paesi con i quali esiste un accordo preferenziale e l'autorizzazione è concessa come dicevamo quando ci sia una procedura che possa essere riconoscibile e riconosciuta dall'autorità doganale che dimostri che l'operatore è in grado di gestire questo traffico quando è che va fatta la dichiarazione in fattura acquisita la autorizzazione può essere fatta dall'esportatore autorizzato su tutte le fatture dall'esportatore autorizzato per qualunque tipo di valore può essere fatta dall'esportatore registrato al sistema REX che è quel sistema che vale per i nuovi accordi per esempio con il Canada o anche con il Regno Unito che propone lo stesso tipo di utilizzabilità del REX anche qua potrà essere fatta la dichiarazione in fattura mentre chiunque può fare una dichiarazione in fattura quindi anche un soggetto che non abbia la qualifica di esportatore autorizzato però ha diciamo per fatture che non superino i 6.000 euro. Ora quali sono i vantaggi? Ovviamente il vantaggio immediato è che il cliente che riceva le attestazioni in fattura o sui certificati di origine non pagherà il dazio. Vi parlavo veramente all'inizio delle casistiche per le quali abbiamo recuperato l'italianità di prodotto aiutando aziende a non essere incise dal maggior dazio cinese beh qui è qualcosa di simile perché in tutti i rapporti con paesi preferenziali ricordo che gli accordi tra Unione Europea e paesi diversi ed aree di mercato sono 43 e i paesi coinvolti sono 73 quindi vuol dire che se un soggetto si qualifica come esportatore autorizzato potrà vendere in 73 mercati senza far pagare il dazio. Questo aspetto vale tantissimo se pensate che nello stessa area ci sono dei competitor che potrebbero avvalersi di questo e dunque arriva il vostro prodotto in un mercato preferenziale se chi lo esporta non è esportatore quel prodotto pagherà un dazio il competitor tedesco croato spagnolo invece ha acquisito l'esportatore autorizzato e quindi quello stesso prodotto per quella provenienza non sarà daziato. Questo fa la differenza ovviamente in termini di competitività. Inoltre aggiungo che certamente diventando esportatore autorizzato si neutralizza il rischio di incorrere in false attestazioni quindi in denunce alla procura della Repubblica perché fin tanto che si rispetta la procedura che è stata condivisa con l'autorità doganale non si incorrerà in violazioni di quella natura. Qui vedete il form che viene utilizzato che deve essere utilizzato dai fornitori unionali che ciascun esportatore deve acquisire per poter diciamo essere in grado di gestire la preferenza. Ecco qui come deve essere il flusso l'acquirente unionale diciamo la nostra azienda tipo che poi dall'Italia esporterà o venderà ad un cliente unionale per poter in esportazione verso un cliente extra unionale fare la dichiarazione in fattura o per emettere a sua volta verso un cliente unionale la long term declaration che abbiamo visto nella slide precedente deve acquisire dai propri fornitori i dati relativi alla merce che ha utilizzato per le lavorazioni interne. Dunque se ha il dato del fornitore potrà verso il cliente unionale eh siglare una LTD una long term declaration dicendo guarda ti sto vendendo caro spagnolo caro francese merce che è preferenziale verso A, B, C e D elencando i paesi oppure indichiarazione in fattura esportando verso le destinazioni preferenziali potrà dichiarare che la merce è preferenziale. Dunque è fondamentale l'acquisizione delle merci e delle indicazioni dei fornitori. Ora ehm forse stiamo andando troppo lunghi però volevo eh segnalare eh quali sono quei regimi che abbiamo richiamato prima parlando di A e O che consentono di sospendere di neutralizzare eh il Dazio. Come vedete ne esiste una ampia gamma e eh sono tutti eh istituti che devono essere autorizzati dall'autorità doganale. Sostanzialmente servono o per stoccare merce extra unionale in sospensione fin tanto che non sarà necessaria quindi differisco il pagamento quel Dazio del caso del deposito doganale così come servono per lavorare merce extra unionale e poterla riesportare. Vi potrei portare l'esempio che abbiamo avuto recentemente proprio in un traffico che coinvolgeva Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito. Il caso era eh quello di una società nel settore agroalimentare che realizzava una certa eh chiamiamo una certa confettura eh chiamiamola confettura un preparato ehm un preparato con alcuni ingredienti quindi ortaggi e così via provenienti dagli Stati Uniti. Il Dazio per quel tipo di prodotto dagli Stati Uniti è molto elevato era del venticinque per cento. Queste preparazioni una volta realizzate nel nostro paese sono destinate tra gli altri ad andare nel Regno Unito. Allora qual era il problema di questo? Il problema è che importando prima le materie prime sulle quali si pagava un venticinque per cento di Dazio e poi riesportando verso mercati diversi si eh avrebbe avuto una doppia imposizione prima sulla materia prima del nostro paese e poi eh sul prodotto finito a destinazione. Allora il perfezionamento attivo è la soluzione perché si può introdurre la materia prima a Dazio zero in sospensione, realizzare il prodotto finito per poter essere in grado di riesportare verso mercati non unionali quel prodotto senza che mai le componenti, le materie prime abbiano pagato Dazio sul nostro territorio. Quindi sono strumenti che possono essere interessanti. Vi segnalo l'ammissione temporanea e l'uso finale che forse non valgono tanto in ingresso nel territorio unionale perché probabilmente nel settore agroalimentare c'è poco che entri in ammissione temporanea per poi essere riesportato. Diciamo questo può essere però interessante al contrario. Gli istituti dell'ammissione temporanea e dell'uso finale possono essere utilizzati così come disciplinati in giurisdizioni estere, sulla falsariga di quello che vedete sulla slide, per per esempio partecipare a delle fiere, a delle esposizioni. Si vuole partecipare ad una fiera negli Stati Uniti, non è necessario fare una esportazione con successiva reimportazione degli Stati Uniti pagando un Dazio statunitense sui nostri prodotti agroalimentari. Si potrà accogliere un regime come l'ammissione temporanea per far partecipare il prodotto alla fiera, esibirlo, se è del caso anche farlo testare e poi farlo riuscire senza aver mai fatto alcun tipo di fiscalità. Del perfezionamento attivo ho già detto ed è proprio, vedete, lo scenario Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito che vi raccontavo che consentiva in estrema sintesi di neutralizzare i Dazi che venivano elevati sulla materia prima importata negli Stati Uniti rinviando l'eventuale pagamento del Dazio solo a destinazione, quindi pagando il Dazio una volta sola e non due volte come invece accadrebbe se non ci si avvalesse di un regime sospeso. Su questo diciamo non aggiungo altro, sul deposito voglio segnalare che laddove ci si avvalga di componenti, di ingredienti che arrivano da un paese extraunionale, mi viene in mente chi produce il caffè per esempio, chi produce il caffè, il chicco del caffè non lo coltiva, non lo realizza nel nostro paese, deve importarlo da fuori. La cosa interessante può essere quella di fare degli stock in modo tale da poi scaricare in importazione il prodotto non quando fisicamente arriva nel nostro paese ma quando via via sarà necessario utilizzarlo. In questo caso ci si può abbavere del deposito perché consente di tenere sospeso il Dazio fin tanto che il prodotto non verrà utilizzato. Per tutti questi regimi serve un'autorizzazione che dia conto all'autorità di come verrà gestito il regime, c'è un iter che ovviamente passa attraverso un audit che viene eseguita sui requisiti che sono molto simili a quelli dell'AEO e voglio ricordare che chi ha EEO non deve subire un ulteriore audit perché ha già smarcato il fatto di avere quella particolare requisito sia soggettivo che oggettivo e verrà poi rilasciata un'autorizzazione per la quale sarà chiesta una garanzia. Anche in questo caso chi ha EEO non dovrà onorare tutta la garanzia ma avrà una riduzione significativa proprio per il fatto di essere stato già riconosciuto affidabile. Voglio ricordare che chi gestisca un deposito IVA può anche assumere il vantaggio sullo stesso perimetro del deposito IVA, quindi chi ha un deposito otoganale, chi ha un'autorizzazione al deposito otoganale, se la esercitasse solo come deposito otoganale avrebbe questo vantaggio. Introduce il primo gennaio le componenti, le materie prime e decide quando estrarle. Quando le estrarrà, mettiamo il 30 marzo, a quella data pagherà contemporaneamente tanto il dazio quanto l'IVA, come se avesse posticipato l'importazione. Chi invece abbia un deposito otoganale e si avvalga di quello che è previsto dalla nostra normativa e quindi segnali all'autorità doganale che utilizzerà quel deposito anche come deposito IVA, potrà come prima, il primo gennaio, introdurre le merci all'interno del regime di deposito doganale, annotando nel carico di deposito doganale la bolletta di introduzione nel deposito, che non avrà liquidato né dazio né IVA. Quando poi il 30 marzo dovrà estrarre la merce perché la immetterà nel circuito di produzione potrà intanto immetterla in libera pratica, che è la nozione che segnala il fatto di pagare un dazio, di nazionalizzare la merce, ma non di pagare l'IVA. Quindi sarà una nuova bolletta di importazione che però esprimerà solo l'immissione in libera pratica, pagherà il dazio, la merce non si muove dal perimetro che è qualificato come deposito doganale ed IVA e viene annotata con quel documento con il quale si liquida il dazio sul carico del deposito IVA. Dopodiché potrà essere estratta con un'autofattura. Quindi qual è l'effetto? Che come con il solo deposito doganale avremo posticipato il pagamento del dazio, ma avvalendoci anche della opportunità di utilizzarla anche come deposito IVA, con autofattura viene neutralizzata l'IVA, quindi non si anticipa IVA in importazione. Questo è interessante perché ovviamente dà un vantaggio anche finanziario a chi eserciti questo tipo di struttura. Ecco, il deposito IVA può essere alimentato sicuramente da flussi extraunionali, così come anche da flussi unionali e anche da cessioni nazionali. Quindi anche una cessione tra soggetti e residenti consente di introdurre la merce nel deposito IVA e poi di rendere, diciamo, di neutralizzare alcuni adempimenti e di rendere più flessibile il rapporto con l'autorità doganale. Su questo, come vedete, esistono una serie di opportunità che ho già raccontato e che non voglio ripetere. Voglio però ricordare che mentre il deposito doganale può essere esercitato in modalità virtuale, consentendo la norma unionale di unire sotto un unico sistema contabile merci fisicamente collocate in tutti i 27 Stati membri, rappresentando il sistema contabile e il deposito, quindi il deposito virtuale, questa funzionalità non è concessa per il deposito IVA. Per il deposito IVA si intende un asset, quindi un magazzino circoscritto, una planimetria ben identificata e soltanto il fatto che la merce sia in regime di deposito IVA all'interno di quella planimetria consentirà tutte le formule di neutralizzazione dell'imposta previste dalla disciplina nazionale. Non è possibile, voglio ricordare, esercitare un deposito IVA in modalità virtuale, così come invece è concesso per il deposito doganale che addirittura può essere concepito in questo modo su più Paesi membri, prescindendo dalla fisicità dei locali che sono utilizzati per lo stock della merce. Su questo abbiamo già detto, sul Certified Taxable Person, quindi non vorrei dilungarmi, poi queste slide le avrete, sostanzialmente è quel richiamo al fatto di mutuare le agevolazioni ai fini doganali, anche per l'aspetto IVA nei rapporti intraunionali, e ovviamente questo vi dicevo sarà in vigore, diciamo dovrebbe, questo processo di evoluzione dovrebbe concludersi entro il primo luglio del 2022, quindi tra un anno e mezzo, e l'indicazione che vogliamo darvi è di annotarvi questo aspetto e di valutare laddove abbiate avvertito la importanza per esempio di assumere l'acquisizione, il ruolo di AEO, che quell'AEO non varrà soltanto ai fini doganali, ma vi consentirà anche di unire i vantaggi che sono concessi e che saranno concessi al Certified Taxable Person. Forse qui, non so, allora ti lascio la parola, potremmo solo fare qualche commento. Sì, guarda, se vuoi solo velocemente puoi tenere pure la presentazione, solo per raccontare diciamo che cos'è l'e-commerce, perché probabilmente ho visto una domanda su questo tema, quindi magari può essere di interesse. Sappiamo tutti che si intende per e-commerce sostanzialmente tutte quelle transazioni che avvengono utilizzando lo strumento mediale per concludere il contratto e il pagamento, ma che prevedono poi la consegna tramite le vie tradizionali, eseguendo quindi il sistema delle vendite per corrispondenza o a domicilio. Si parla quindi di vendite a distanza in questo caso. Qual è la caratteristica delle vendite a distanza? Che hanno una disciplina peculiare agli effetti dell'IVA. Quella attualmente vigente prevedeva che avvenisse la tassazione nel paese di destinazione del bene qualora l'operatore economico cedente avesse superato l'ammontare di vendita di Euro 100.000, ovvero 35.000, laddove lo Stato membro di riferimento avesse optato per la soglia più bassa. Quando si superavano queste soglie che cosa doveva fare l'operatore? Doveva e deve ancora ad oggi, doveva nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione dei beni. La grandissima novità che costituisce l'opportunità per le aziende di utilizzare da oggi in poi l'e-commerce è che dal prossimo 1 luglio del 2021 verrà innanzitutto armonizzata questa soglia che quindi sarà di Euro 10.000 per tutti gli Stati membri interessati, ma soprattutto non si dovrà più nominare un rappresentante fiscale per il principio della tassazione nel paese di destinazione, ma si potrà utilizzare il regime dell'OS, One Stop Shop, che sostanzialmente sarà un database che consentirà il pagamento dell'IVA sulla base delle distinte aliquote previste negli Stati membri di destinazione semplicemente diciamo con un numero di partita IVA già ottenuto nello Stato membro di stabilimento dell'operatore economico. Questo significa che non si dovrà più il soggetto che fa utilizzo dell'e-commerce confrontare con tutte quante le normative IVA diverse degli Stati membri in cui effettua delle cessioni di beni a distanza, ma semplicemente potrà avvalendosi di questo database, di questo regime dell'OS, effettuare vendite a distanza utilizzando la propria partita IVA già ottenuta per lo svolgimento della propria attività commerciale e con questa poi gestire anche le vendite locali negli Stati membri interessati. Massimo non so se vuoi continuare con gli accordi che erano... Sì, questo diciamo, trovate questi aspetti in queste slide. Volevo concludendo, senza togliervi troppo tempo, ricordare che ci sono una serie di accordi appena conclusi, questo con la Cina lo vedete, è del 4 dicembre 2020, che in realtà non hanno una immediata rilevanza quanto a vantaggi di natura doganale, però concedono tutele che prima erano sconosciute ai nostri prodotti proprio contro quei fenomeni che ricordavo veramente in principio, tra gli altri quello della contraffazione dell'Italian Sounding. In altre parole esiste, per una reciproca intesa, la possibilità di salvaguardare tanto le denominazioni di origine protetta, tanto le indicazioni geografiche protette, con un intervento di quelle autorità straniere, delle autorità cinesi, a tutela delle nostre aziende, laddove si identifichi e quindi ci sia una segnalazione di soggetti residenti che vogliano emulare i nostri prodotti. Questo è interessante perché ovviamente il rapporto con la Cina era minato da una serie di contraffazioni o di azioni illecite che come vedete generavano una perdita di circa 60 miliardi di euro per tutti gli Stati dell'Unione Europea, molti di questi 60 miliardi sono riferiti a nostri prodotti e ovviamente questa cooperazione doganale tra le autorità dovrà consentire, dovrebbe consentire, auspichiamo, una concorrenza leale tra le due parti, appunto tutelando le nostre aziende rispetto ai prodotti più pregiati e quindi proteggendo le indicazioni geografiche che sono identificate nell'accordo. Un'altra cosa che va ricordata è che ognuna delle due parti, ovviamente la nostra preoccupazione è che lo faccia la Cina, come vedete può reprimere l'uso di un qualsiasi prodotto che possa suggerire un'indicazione geografica diversa. Vi dicevo prima, noi abbiamo visto casi in cui si fa il pomodoro san marzano piuttosto che la pizza margherita o ogni altro tipo di prodotto dando un nome italiano, ma fatto da soggetti che con l'Italia non hanno nulla. Ebbene, tutto questo può essere oggetto di tutela e speriamo che questa attività ovviamente elimini tanto la contraffazione quanto l'Italian Sounding. Stessa cosa nell'accordo con il Giappone, per il quale c'è un livello di protezione per 200 prodotti unionali, 44 dei quali sono italiani. Ora se pensate che i paesi dell'Unione Europea sono 27 e che su 200 praticamente un quarto dei prodotti è italiano, capite qual è la dimensione dell'interesse che soprattutto il nostro paese ha in questo tipo di accordi. Anche con il Giappone spieghiamo che ci possano essere tutele che consentano la neutralizzazione di fenomeni di Italian Sounding e così come di contraffazione. Anche con il Vietnam esiste per effetto dell'accordo una tutela della proprietà intellettuale sui marchi e sulle peguivarità dei nostri prodotti agroalimentari e come vedete ci sono otto produzioni di qualità certificata DOP ed IGP, gli aceti, il grana padano, il parmigiano e il prosciutto di Parma, che potranno essere tutelate laddove l'operatore italiano si accorga di subire una qualunque aggressione sul proprio prodotto e questo ovviamente ci rallegra, spiegando che quei famosi 60 miliardi di perdita possano essere contenuti e regalare maggiori soddisfazioni commerciali al prodotto che è effettivamente italiano. L'accordo col Canada è messo per ultimo però è stato in realtà il primo di questi che ha aggiunto alla nozione più doganale di rapporto preferenziale la tutela di nostri prodotti DOP ed IGP. Ci sono 39 prodotti in particolare nostri italiani che sono tutelati rispetto ad aggressioni come contraffazione Italian Sounding, alcuni li vedete a video e ancora una volta l'auspicio è che questo consenta di limitare quei danni che erano vasti e vastissimi e che penalizzavano l'export del nostro prodotto più pregiato del nostro prodotto agroalimentare. Io ho concluso Giada e ovviamente noi restiamo a disposizione per ogni domanda, per ogni follow up e le slide vorrei inviarle certamente ai partecipanti. Ti ringrazio perché anche oggi, ma diciamo non è più una sorpresa, le imprese sono state riempite di contenuti veramente densi e tra l'altro man mano che arrivavano le domande voi rispondevate in tempo reale, quindi oggi sono state veramente, è stata data risposta strada facendo. Le cose che sono state dette sono veramente tante, infatti le imprese e i partecipanti avranno modo di elaborare tutte queste informazioni, sia perché gli manderemo le slide, ma potranno anche rivedere il webinar perché è registrato ed è disponibile, sarà disponibile nel nostro canale di YouTube di Sicindustria e Interface sullo network. Mi soffermerei proprio su quattro parole chiave, una e un po' sono due, cooperazione e armonizzazione, perché il mondo doganale sta andando proprio verso questa direzione, che poi è una direzione che porta a una semplificazione massima e quindi un risparmio di costi, a tutta una serie di vantaggi diretti e indiretti di cui avete parlato, che non valgono soltanto, perché molte imprese in Sicilia, ma vale anche per la Sardegna, si spaventano, di dire, ah ma fare l'operatore, ne parlavamo l'altra volta con Aurora, abbiamo avuto un incontro con una bella imprese, no? Sicilia, ah ma è costosissimo diventare operatore economico, no? Questi vantaggi valgono per le piccole, piccolissime imprese come per le grandi. E il vantaggio finale poi, un'altra delle parole chiave su cui mi piace soffermarmi, è quello del relazionale, delle relazioni che si instaurano da ora nel futuro con le dogane, perché le dogane non sono più viste come il controllore che viene, ti fa l'audit, ti deve sanzionare, ma il rapporto fra dogane e impresa diventa un rapporto di vera collaborazione. Quindi io mi soffermerei qua, non so se voi avete dei commenti su questo. No, certo, questo che hai detto tu è corretto, ma soprattutto voglio ricordare quello che stavamo dicendo veramente all'inizio, cioè abbiamo raccontato di alcuni adempimenti che le nostre aziende spesso sono molto spesso abituate a lasciare a soggetti terzi. In realtà riportandoli a casa o gestendoli direttamente pur avvalendosi di un dichiarante doganale, quindi non si deve abbandonare chi poi materialmente effettua l'operazione doganale, però gestendoli ex ante in modo da pianificarli consente di ridurre i dischi, di ridurre i costi, quindi è un obiettivo di diversa impostazione del rapporto internazionale. Decisamente sì. Io a questo punto mi fermerei perché sono state proprio due ore, però Aurora, Massimo, Silvia e io vi diamo appuntamento mercoledì 27 gennaio alle 10 sempre per parlare di accise e non parlare soltanto dei principali adempimenti, ma anche di tutti i vantaggi che possono provenire dalla volersi dei regimi sospensivi oppure dalla possibilità di richiedere di rimborsi. Quindi scopriremo tutti i trucchi che sono collegati, tutte le magie che sono collegate al tema delle accise, perché quello che è interessante, il tema doganale è un tema difficilissimo, il modo in cui lo raccontano, Aurora e Massimo, credo che renda piacevole e interessante questo argomento. Appena ci sarà occasione lo faremo accompagnare con del prosecco però. Esatto, lo faremo di nuovo in presenza come da in presenza. Faremo una triangolazione tra Sardegna e Sicilia. Quindi vi do appuntamento, vi ricordo che se volete degli incontri specifici per discutere meglio più approfonditamente potete richiedere l'incontro al custom test, vi ho mandato anche il link ma ve lo rimanderò quando vi invieremo le slide. E a questo punto vi ringrazio. Silvia, volevi dire qualche cosa? Ma avete detto tutto, quindi no, assolutamente. E allora ci vediamo giorno 27, spero numerosi come oggi e a presto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.